Il mercato in attesa di risposte dal territorio. Quella del Teramo sarà un'estate particolare. A poco più di una settimana dall'ultimo atto col Catanzaro, la società Biancorossa, come ammesso dal presidente Iachini non più tardi di lunedì, vuole capire se e quanto l'Interland Teramano sia disposto ad appoggiare il progetto della dirigenza. Io mi sono più volte lamentato di come il territorio, le istituzioni mi hanno sostenuto in questo anno. Se le risposte dovessero essere positive, ecco che a settembre o magari prima, come ha fatto capire Iachini, la campagna Rafforzamenti sarà in linea con una formazione che in questa stagione ha dimostrato di voler lottare con le prime, pur non riuscendoci mai in fondo. Ed è proprio per la volubilità del calcio che deve avere indotto il massimo dirigente a chiedere aiuto alla piazza per poter assicurare la continuità degli investimenti fatti, ad esempio, nell'estate 2019. A dargli indirettamente una mano potrebbe essere però il suo ex allenatore, Bruno Tedino. Voci sempre più insistenti lo danno vicino alla panchina della Ferralpisalò e trovasse l'accordo con i Lombardi, Tedino dovrebbe prima risolvere il contratto che lo lega al diavolo fino al prossimo giugno. Questo consentirebbe al Teramo di risparmiare l'ingaggio del tecnico preso 12 mesi fa come caposaldo del progetto che sarebbe dovuto essere subito vincente. Ma le difficoltà della squadra e la posizione in classifica, acuita dalla sconfitta in casa 0-3 col Monopoli, portarono all'esonero con tanto di promozione nella prima squadra di Cetteo Dimascio, che confermato per la prossima stagione sarebbe figura ideale, in caso contrario, se le risposte dal territorio che Iachini continua a chiedere non dovessero arrivare. A quel punto, come ha esplicitamente detto lunedì, Io penso di essere stato chiaro prima. Il nostro obiettivo è quello di non buttare nel cosiddetto water l'acqua sporca con tutto il bambino. Abbiamo tempo fino al 31 agosto. Poi io lì prenderò una decisione su come programmare e fare gli investimenti. Se devo continuare a fare gli investimenti da soli, faremo una squadra minimale. Io non ho intenzione di continuare a buttare milioni e milioni di euro da soli. Molto semplice. Poi c'è qualcuno più bravo che si vuole fare avanti, per carità. Visto che sono uscite delle voci in giro, che ci sono persone pronte a comprare il terreno, magari venissero qua con i soldi in bocca. Ed ecco allora che nella peggiore delle ipotesi serve un tecnico abituato a lavorare con i giovani. E chi meglio di Dimascio può ricoprire questo ruolo? L'insidia però sta nel fatto che tra poco meno di un mese si ricomincia e per stilare un programma di cessioni e acquisti servirebbe capire all'interno di quali paletti muoversi. Si possono firmare già dei precontratti che valgono per la stagione successiva, ma il diavolo prima dovrà redigere un consuntivo di quanto potrà spendere, con rischio che le concorrenti a quel punto saranno già rinforzate quando la società biancorossa avrà le idee chiare. Per questo la piazza attende risposte in tempi certi per non dover rincorrere, dopo averlo fatto per tutto questo campionato in campo anche sul mercato.